Prossima fermata Mercato, speriamo che si ferma, perché stavolta Trano Tredici ha saltato la fermata via Lavelli. E' un po' strano in tutti i stai siti, però, e tutti i siti, se io dovrei arrivare, se dovrei mandare l'ultra legge, mandare un'autista. E' un po' strano. Trano Tredici ha saltato le fermate.